Ciao a tutti, in questo breve talk cercherò di darvi qualche consiglio pratico per migliorare la velocità dei siti WordPress. Sappiamo tutti che la velocità di un sito web è molto importante per tantissimi motivi e sicuramente è da un'idea della nostra prima impressione quando è la nostra attività, gli utenti sempre di più sono impaziente, migliora l'esperienza utente e in particolare anche le conversioni ed è fondamentale anche per il posizionamento nei motori di ricerca, sia come effetto indiretto, sia come effetto diretto e da vedere se è direttamente un fattore presente negli algoritmi di Google, comunque come fattore indiretto è sicuramente importante per il posizionamento nei motori di ricerca. In questo diagramma possiamo vedere un caricamento di una pagina che dobbiamo ricordarci che il caricamento non è assimilabile ad un unico valore, ad un'unica misurazione, ma è piuttosto un'esperienza in quanto ci chiediamo inizialmente quando carichiamo una pagina, inizialmente abbiamo quella domanda del ma sta funzionando e poi passiamo a chiederci se è utile e poi se inizia anche essere interattivo e quando diventa direttamente utilizzabile. I possibili interventi sono tantissimi, si vorrebbero ore per parlarne e anche discuterne perché ogni volta ci sono varie opinioni a riguardo, qui ne ho riportati alcuni, uno sicuramente migliorare il tempo di risposta del server, abilitare la compressione nei vari trasferimenti degli asset, ottimizzare le immagini, evitare il caricamento di risorse render blocking, dare la priorità ai contenuti above the fold per fare in modo che ci sia quella impressione di velocità perché una delle cose più importanti da raggiungere è che dia l'idea di essere veloce, se poi continua a caricare sotto gli altri asset poco importa, l'importante appunto è questa impressione di velocità che si riesce a trasmettere, ottimizzare le richieste HTTP e tante altre interventi. Avendo poco tempo a disposizione in questo talk mi limiterò a parlare di come possiamo ottimizzare le richieste HTTP. Dunque negli ultimi anni siamo passati anche ad avere a disposizione il protocollo HTTP 2 e quindi si è passato da un tempo c'era la limitazione che i browser, che il protocollo HTTP 1 e i browser di conseguenza rispettavano che non si potevano avere più richieste da uno stesso dominio in contemporanea, il limite sarebbe 2, i browser facevano 6 e quindi si facevano tanti sotterfugi, quindi utilizzare sottodomini, domini esterni, concatenare i file e quant'altro. Da quando è presente l'HTTP 2 questa cosa un pochettino è venuta a scemare in quanto si possono avere connessioni concorrenti multiple, ma c'è ancora la diatriba di quale sia il metodo migliore per appunto trasferire queste risorse e queste richieste. Quindi la mia domanda che vi faccio è, secondo voi qual è la richiesta HTTP più veloce? Concatenata, non concatenata, utilizzare tanti server esterni? No. Avete qualche idea? Ok. La richiesta HTTP più veloce è quella che non è mai fatta, quindi cerchiamo di limitarle, non facciamole a priori. Questo perché sempre di più i temi e soprattutto i plugin e gli utenti e i clienti ci chiedono sempre più cose, quindi installiamo il plugin per fare la gallery in una pagina, dobbiamo installare il contact form da qualche altra parte, eccetera. E quindi ci ritroviamo con dei siti che, anche per fare delle semplici pagine, caricano tanti asset che a volte non sono necessarie per la visualizzazione di quella pagina. Una delle cose più importanti da fare è applicare il level load delle immagini. Adesso molti temi, se li usate, l'hanno già incorporato, non tutti lo fanno in una maniera molto efficiente o vanno a interferire con gli altri plugin. E quindi un plugin che vi consiglio, se il vostro tema non lo supporta già, è questo qui di WP Rocket. Let the load funziona molto bene, funziona anche per i video e quindi è ottimo. Un'altra cosa molto interessante è evitare il caricamento delle risorse non necessarie. Questo perché, appunto, come ho appena detto, i plugin, spesso ne installiamo anche troppi, soprattutto perché i clienti ce ne chiedono sempre di più, vengono, soprattutto se non sono programmati in maniera molto efficiente, vengono caricati in tutte le pagine del sito. Questo avviene sempre, vengono caricati in tutte le pagine del sito e alcuni, ancora peggio, caricano anche asset non necessari. Uno di questi, ad esempio, è Contact Form 7, che proprio l'anno scorso Ada ci aveva fatto una bella presentazione che ci spiegava come eliminare i suoi asset. Quindi, per evitare queste evenienze, vi consiglio questi due plugin, plugin organizer e plugin load filter, che vi permettono di selezionare in maniera, appunto, selettiva, pagina per pagina o sezione per sezione del sito, quali plugin attivare e avere. In questo modo, proprio il plugin nella generazione di quella pagina non viene neanche caricato in memoria, eccetera. E quindi si velocizza anche la creazione della pagina stessa. Un altro metodo per ridurre le richieste HTTP è quello di fare l'even load anche dei video. Questo perché quando ne implementiamo uno, questa chiamata non fa altro che poi chiamare contattare i server remoti, che poi dopo scaricheranno dei file JavaScript e dei CSS ausiliari che possono pesare anche fino ai 300-400K soltanto per un video che poi magari in fondo alla pagina nessuno mai vedrà. Quindi anche in questo caso cerchiamo di caricarli in maniera più intelligente. E per farlo, un buon plugin, oltre a quello che prima era di WP Rocket, del level load for videos, è molto utile. Un'altra cosa che un tempo era quasi necessario utilizzare i server esterni, soprattutto nel caso dei Google Fonts, per evitare il problema delle connessioni concorrenti e concomitanti e per evitare quel problema. In questo caso possiamo utilizzare questo altro plugin, Optimize My Google Fonts. È molto comodo perché una volta scelto il font che vogliamo utilizzare, scaricherà in locale tutti i font e tutti i file necessari, creerà anche il CSS necessario per utilizzarlo, lo inietterà nella pagina e se il tema è costruito in maniera abbastanza decente, rimuoverà i riferimenti al servizio esterno di Google. Ci sono tanti altri modi per poter migliorare queste richieste. Un ultimo consiglio che vi voglio dare, non è proprio sul limitare il numero delle richieste da fare, ma è l'utilizzo di questo plugin. È un plugin molto nuovo, è stato pubblicato nel repository da penso poco più di un mese, ha un migliaio di installazioni e tra le sue caratteristiche ha quello di precaricare le pagine interne del vostro sito, che hanno un link nel viewport, quindi tutti i link che sono presenti nella parte che si vede della pagina vengono precaricati, però soltanto l'HTML, quindi non vengono caricati anche tutti gli asset, parliamo di pochi k per link e questo permette di avere, nel caso che l'utente clicchi uno di quei link, la visualizzazione quasi istantanea della pagina successiva perché la richiesta al server remoto è già stata fatta e quindi è già disponibile. È molto, è fatto molto bene, rileva il tipo di connessione dell'utente, quindi se è una connessione lenta o se l'utente ha selezionato di salvaguardare i dati, eccetera, non fa questo precaricamento, è possibile limitare il numero di link da fare al secondo, è possibile escludere url che non vogliamo precaricare ed è anche compatibile con WooCommerce. È molto utile e ve lo consiglio veramente. Grazie.